Dove è andato? Nel bosco, è un boscaiolo. È andato a tagliare le piante. Le piante di chi? Quelle nostre, vicino all'acquedotto. Ci sono delle piante, ha detto, tiriamole via. E che ha sbagliato, ha sbagliato i confini e quindi ha tagliato un pezzettino delle nostre. E allora adesso deve fare in modo di sistemare. Ma tu non ti preoccupare. Sai come si dice in dialetto? Luigi, Luigi, sta senza pensieri. Sai cosa vuol dire? No. Sta senza pensier. Sta sempre in sì? Sta senza pensier. Ah, sta senza pensieri. Sta... resta senza pensieri. Brava. In dialetto napoletano, adesso io non so l'accento, si dice Luigi, sta senza pensieri. Vuol dire, stai tranquillo, è tutto a post. Che sonno! Che sonnino! Ma sei dormito tutta notte oggi? Ma sì. E ho anche mal di stomaco. Non riesco a capire cosa mangio per avere mal di stomaco. Mi fa anche un po' male il ginocchio. No, il ginocchio oggi no. Il ginocchio no? No. Stanotte... stanotte... stanotte...